Poracci bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi nel 2023, probabilmente anche nel 2024 e mi sbilancio pure nel 2025. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima e c'è veramente poco tempo da perdere perché se no qui rischio di darvi la buonanotte o il buongiorno, dipende da quando guardate i video. Mi raccomando però l'invito è sempre lo stesso, prendete parte alla conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del poroverso secondo le vostre capacità. Da un semplice like a un abbonamento qui su YouTube o al Patreon, ogni gesto mi aiuta in un modo incredibile. Un grazie gigantesco ad Oggi Retro Games per sponsorizzare il canale, io ho detto tutto, iniziamo! Partiamo dall'angolo della poracciata con una settimana un po' moschetta per l'Epic Game Store. Questa settimana infatti il negozio offre gratis fino al 12 Godlike Burger, un titolo di cui non ho mai sentito parlare ma non lo so, la cover non è che mi ispiri più di tanto. Non è poi che i titoli disponibili dal 12 saranno tanto migliori, però come si dice, a cavallo donato non si guarda in bocca. Vi ricordo che da martedì scorso potete provare i giochi del PlayStation Plus Essential del mese. L'offerta principale è quella di The Callisto Protocol, titolo che lo scorso anno non ha impressionato in positivo come in tanti speravano riuscisse a fare il seguito spirituale di Dead Space. Se avete avuto la pazienza di aspettare fino ad oggi è giunto il momento di recuperarselo in modo opporaccio, anzi essenziale. Su fronte Microsoft invece vi segnalo un po' di cosette interessanti. A proposito di titoli che non hanno mantenuto le aspettative, Gotham Knights è ora disponibile sul pass sia su console che pc che cloud. Inoltre dal 17 arriverà anche Like a Dragon Isshin. Ma intanto vorrei concentrarmi su un nome di sicuro meno di impatto ma che secondo me dovete assolutamente provare. Cocoon. Il titolo è disponibile già da un po' credo addirittura dalla scorsa settimana e io me lo ero fatto sfuggire, ma ora che lo sto giocando devo dire che si tratta proprio di una gemma indie. Non a caso il titolo è stato diretto da Jeppe Carlsen, uno dei due nomi dietro ai capolavori di Playdead, Limbo e Inside. Ed è incredibile come il gameplay sia molto diverso da questi due titoli, ma comunque Cocoon ne condivide una genialità di fondo, un'idea di game design che fa sì che si riesca a creare un puzzle game innovativo e coinvolgente senza bisogno di strafare. Sul serio, è un gioco in cui non ci sono dialoghi e si preme solo un tasto eppure è una delle migliori esperienze dell'anno. Io ve lo straconsiglio anche perché dura circa 4 ore ed è lo stoppino perfetto in attesa delle grandi produzioni di ottobre. Ma in tutto questo c'è anche Forza Motorsport che ufficialmente arriverà al 10, ma che è possibile già giocare in Early Access se è stata comprata la Deluxe Edition. Non sono un patito di racing game, ma questo nuovo capitolo della serie Turn 10, che dovrebbe rappresentare un po' un nuovo punto di partenza, non a caso è stata abbandonata la numerazione nel titolo, in realtà è stato accolto con qualche riserva dalla critica. La grafica però sembra proprio essere spacca mascella, qualcuno di voi lo sta già giocando. Nintendo invece, dopo aver confermato l'esistenza dei set LEGO di Animal Crossing, che sono sicuro faranno finire in tanti sull'astrico, ha pensato anche a noi poracci, annunciando una nuova campagna sconti sull'eShop a tema gem indie. Se riesco a trovare il tempo nel weekend vi farò un video dedicato, intanto però il consiglio è sempre lo stesso, se dovete rivistare l'eShop mi raccomando fatelo tramite DekuDeals. Riprendendo il tema recensioni dobbiamo parlare di due titoli di un certo richiamo, Assassin's Creed Mirage e Detective Pikachu il ritorno. Per Mirage abbiamo una media metacritic che non è proprio entusiasmante e questo ritorno alle origini della serie Ubisoft in realtà non sembra aver convinto appieno. Va bene che si tratta di un progetto minore, ma l'approssimazione con cui sono stati sviluppati alcuni elementi del gioco, in particolare la componente narrativa, sembra tradirne l'origine da DLC. Ora però vi rigiro la domanda, vi accontentate di un vecchio Assassin's Creed come Mirage, un po' anacronistico ma contenuto nelle ambizioni oppure avreste preferito un nuovo, immenso, action RPG open world alla valalla. E anche Detective Pikachu è stato accolto in modo un po' freddino dalla critica. Qui abbiamo una media metacritic ferma per ora a 69 e per quanto si parli di un seguito che espande in modo convincente le premesse narrative gettate con il primo episodio e in parte anche con il film, un po' tutta la critica è concorde nell'affermare che è passato troppo tempo per potersi accontentare di così poco. Un gameplay molto limitato e una realizzazione tecnica che forse avrebbe sfigurato anche su 3DS affossano un concept di per sé intrigante. Io non ve l'ho mai nascosto, il gioco mi attira meno di zero ma sono curioso di sapere se tra di voi c'è qualcuno che conta di prenderlo. Invece chi di voi stava aspettando l'Arkham Trilogy su Nintendo Switch? Ecco mi dispiace deludere i fan di Batman ma questi dovranno aspettare ancora un po'. Il titolo previsto per il 13 ottobre è stato ufficialmente posticipato al primo dicembre. Da una parte meglio perché in queste settimane uscirà il mondo e di sicuro in pochi avrebbero scelto di dare priorità a questa raccolta, dall'altra però rimane la curiosità di capire come diavolo hanno fatto a far girare Arkham Knight su Switch. Questo sì che è un porting impossibile e il rischio di aver fatto un pasticcio è altissimo. In ogni caso vi ricordo che nella versione fisica della collection su cartuccia sarà presente solo il primo titolo, Arkham Asylum, mentre gli altri due, City and Knight, andranno scaricati tramite codici di download. E per la serie, a volte ritornano, Feral Interactive ha annunciato una versione per Nintendo Switch di Hitman Blood Money, il classicone della serie stealth uscito nel 2006 un po' su tutte le console dell'epoca. Il team è lo stesso che si è occupato del porting su Switch di Alien Isolation, quindi mi aspetto una versione di tutto rispetto. Il gioco promette numerosi miglioramenti al gameplay e l'uscita è prevista per un generico inverno di quest'anno. Però ci dobbiamo soffermare su un dettaglio, è interessante notare come ormai Switch sia considerata la stregua del mercato smartphone. Direi che è proprio ora di passare alla next gen. E proprio partendo da questa considerazione passerei alle notizie del giorno. Abbiamo infatti un bel po' di novità riguardanti le generazioni di Nintendo e anche se apparentemente si tratta di eventi non correlati tra di loro, se analizzati li possiamo inserire in un contesto ben preciso. Innanzitutto parliamo di all gen. Nello shorts di ieri vi ho già dato la brutta notizia che Nintendo a partire da aprile 2024 chiuderà le funzionalità online dei software 3DS e Wii U. È una notizia che arriva un po' come un fulminaccia al sereno, perché dopo la chiusura avvenuta quest'anno dei rispettivi store digitali, in tanti si sarebbero aspettati che il multiplayer online sarebbe rimasto disponibile ancora per un bel po' di tempo. In fondo servizi del genere sono ancora attivi su PS3 e PSV e una delle due non è che sia stata proprio una console di successo. Concretamente questa scelta significa che non sarà più possibile avviare i servizi online di tutti i software pubblicati da Nintendo e questo comprende anche il multiplayer e il trasferimento dei dati. Tranquilli però, il 3DS per lo street pass e lo spot pass non utilizza internet ma è una tecnologia diversa e queste due funzionalità rimarranno attive. Non so quanti di voi giocano ancora su queste piattaforme, ma togliendo i giochi che magari presentano anche un comparto single player di tutto rispetto e che quindi potranno continuare a essere apprezzati nonostante tutto, ci sono giochi che invece a partire d'aprile 2024 diventeranno praticamente inutilizzabili, come ad esempio 3Force Heroes, Splatoon o anche Mario Maker. Si potrà ovviamente continuare a giocare in locale e scaricare contenuti aggiuntivi e giochi già acquistati in precedenza, ma è palese l'intenzione di Nintendo di voler spostare tutta la sua utenza su un'unica piattaforma. Un problema del genere nasce proprio dal non aver investito già nei primi anni 10 in un sistema di account e Nintendo ID che non fosse dipendente dalle piattaforme, ma che fosse in grado di abbracciare tutto un ecosistema di device appartenenti al mondo Nintendo. Un po' come accade con gli account Microsoft. Quindi potremmo vedere questo taglio con il passato come il primo passo per effettuare una transizione definitiva alla next gen, spostando tutta l'utenza su Nintendo account che sappiamo rappresenteranno un perno centrale nelle strategie future di Nintendo. Il tempismo poi di questa chiusura fa pensare proprio alla potenziale presentazione di una Switch 2 che potrebbe avvenire proprio in quel periodo temporale. Ma questo non entra un po' in conflitto con le recenti affermazioni di Shuntaru Furukawa? In realtà no. Prima però di procedere vi ricordo che questo video è sponsorizzato da Otoji Retro Games. Sapete tutti quanti che sono un appassionato di retro gaming e collezionismo e proprio per questo sono felice di collaborare nuovamente con Otoji Retro Games, uno dei migliori e-commerce in circolazione. E vi invito a dare un'occhiata al sito e ai suoi profili social perché vengono aggiornati in continuazione e ogni settimana troverete tante novità aggiunte al catalogo e anche prezzi stra interessanti. Ce n'è veramente per tutti i gusti, dai giochi loose fino ai pezzi più rari e ricercati e se volete Otoji offre anche un servizio di ritiro dell'usato e di permuta. Trovate tutti i link di Otoji in descrizione e mi raccomando in caso diteli che vi manda poro. Ancora un grazie gigantesco a Domenico e Otoji per supportare il canale e andiamo avanti. Il presidente di Nintendo ha recentemente dichiarato in un'intervista fatta da Nikkei che il supporto a Nintendo Switch continuerà ancora per molto tempo e l'intenzione è quella di continuare a seguire la console anche il prossimo anno e oltre. Cito testualmente un estratto dall'intervista. Stiamo ancora lavorando su software per la Switch nell'anno fiscale che finirà il 31 marzo 2025. Nell'anno fiscale corrente invece speriamo di mantenere la spinta dettata da Zelda e dal film di Super Mario, concentrandoci sulla stagione delle vacanze natalizie. Per quanto riguarda l'hardware cercheremo di spingere al massimo l'interesse dei nuovi acquirenti ma anche quello di chi cerca una seconda console e parti di ricambio. Quindi sì, Nintendo continuerà a supportare la Switch almeno fino al 2025 ma questo non significa che non ci sia spazio per l'arrivo di una nuova console. Sappiamo infatti che dopo Princess Peach Showtime, previsto per il marzo del prossimo anno, le remaster di Luigi's Mansion 2, Paper Mario e il portale millenario continueranno a rimpolpare la line-up Switch nell'anno fiscale 2025 e mi immagino che altre operazioni del genere riempiranno i mesi a seguire. Ma appunto, grandi produzioni e nuovi capitoli sono già destinati alla prossima piattaforma e nel passaggio generazionale c'è sempre un periodo di coesistenza dove la next-gen diventa il centro dell'attenzione mentre la all-gen spara le sue ultime cartucce ed ospita anche produzioni cross-generazionali. E tenete gli occhi aperti perché vi ricordo ad esempio che nel 2017, mentre tutti sbavavamo su Switch, su 3DS uscivano bombe del calibro di Samus Returns, che oggi non è neanche così facile da reperire. Insomma per me si concretizza sempre di più l'idea di una Switch 2, presentata nel corso del 2024, con un lancio previsto entro la fine dell'anno. Switch continuerà a ricevere supporto, ma piano piano lascerà il passo a Switch 2, Switch NG o come volete chiamarla. Voi poracci che cosa ne pensate? E questo era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà, voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, dormendo Sonic tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro 3DS, Michele Wii U, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Porion, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a Caccia di Retro Game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Addio all'online di Wii U e 3DS. Pretendo un risarcimento. Pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-